Assessore per un giorno, oggi i bambini qui nel Regione, come ci si sente da Assessore per un giorno? Ci si sente importanti, è divertente, è una bella esperienza da non perdere. Tu da grande vorresti fare l'Assessore? Non lo so. Ci stai pensando? Sì. Allora come hai trovato qui la Regione, gli uffici della Regione e come ti sei trovata con l'Assessore? All'inizio ero un po' aggirata, ma poi se ti abitui passa tutto, l'ansia. Ho trovato una bellissima esperienza. Un'esperienza quindi che ti piacerebbe ripetere anche tra qualche anno? Sì, devo pensarci cosa... Tu segui un po' la politica anche se sei piccolina ancora? Insomma. Però da grande ti piacerebbe diventare un politico importante, famoso? Ci devo ancora pensare. Assessore Sclocco, oggi si parla di politica, lo si fa pensando ai politici probabilmente di domani, giornata dell'infanzia. Assessore per un giorno, oggi due bambini, due ragazzi delle scuole qui di Pescara, hanno provato l'ebbrezza di essere assessore per un giorno. Sono stati bravissimi, proprio per ricordare la giornata dell'infanzia e dell'adolescenza che è appunto il 20 novembre abbiamo pensato di dare vita ad uno degli articoli della Carta dei diritti dei bambini e cioè l'articolo che dice che i bambini devono partecipare alle decisioni che li riguardano. Per cui abbiamo fatto questo concorso. Hanno partecipato 869 bambini, 45 istituti scolastici, abbiamo letto tutti gli 869 elaborati, ne abbiamo scelti due e abbiamo lavorato con Lorenzo e con Virginia. Abbiamo fatto capire loro, vedere loro che cosa fa la regione e abbiamo fatto una vera e propria riunione con la direzione. Loro ci hanno detto quali erano le loro idee da assessore e abbiamo promesso che le avremmo realizzate. Per cui li richiameremo non appena questi progetti vedranno la luce, spero presto perché non dobbiamo deluderli. I bambini hanno delle antenne sociali molto sensibili, ci parlano a seconda, non è un caso, che a seconda del territorio di provenienza della scuola i bambini proprio sottolineano i problemi proprio di quel territorio. Come se fossero davvero dei termometri sociali.